Sei troppo zoomato Dimmi se ti va bene così Sei troppo lato Dario ti cerca Blur Blur ti sta dissando perché ha trovato le rare Eh vabbè pace ragazzi mi disserà Cazzato nero Sì Blur te lo spiego Può capitare ogni tanto che esca un box Dove ci sono delle sequele di carte nuove Perché io Cristo A differenza delle carte dei pokemon che spacchetti te Per pari vende l'eBay a 1000 euro Ci possono essere Purtroppo in Italia la randomizzazione Alla pokemon che sta passiato Il dio madonna non a Milano Può capitare che ci siano delle carte uguali Proprio per questo abbiamo messo il sito Degli scambi a mie spese Abbiamo messo il sito delle singole a fine mese Proprio per ovviare a questi Box che ogni tanto escono Te l'ho regalati quei box Piggiali stai zitto Cristo Dio Ovviamente come scherzo anch'io MENZ Ok TITO